Benvenuti tutti nuovamente su questo canale. Stiamo per trasmettere un'altra udienza del processo comprata che si è svolto a Palermo il 16 settembre del 1994. In aula ascolterete l'ex magistrato Francesco Di Maggio. Buon ascolto. Posso non riprendere. Dio alle generalità. Francesco Di Maggio. Nato a Mazzarino, Caltanissetta. 19 luglio 1948. Domiciliato per il servizio a Roma. Noi. Pubblico per il sera, con precede. Dottor Di Maggio, lei ha conosciuto il dottor Contrada? Sì. Può riferire per favore in che circostanze chi era presente, chi gliel'ha presentato? Il dottor Contrada mi è stato presentato negli uffici dell'Alto Commissariato, in Piazza della Libertà, dal dottor Tonino De Luca e dal dottor Ignazio... D'Antonio. D'Antonio. Ricorda quando accade questo incontro? No, non ricordo esattamente quando. Nel corso dell'escursione in sede di indagini preliminari mi è stata riferita la circostanza che il dottor Contrada era solito tenere l'agenda dei suoi appuntamenti. Per parte mia io comunque posso collocare questo episodio quasi sicuramente in epoca successiva e prossima alla pubblicazione su un settimanale di un articolo che indicava il dottor Contrada come la talpa di Palermo. Sì, ricorda se in questo incontro avete avuto modo di parlare proprio di questo articolo e della problematica connessa a questo articolo. Sì, infatti abbiamo parlato solo ed esclusivamente di questo articolo, ricordo che il dottor Contrada era letteralmente indispettito per questa notizia, aveva riferito che avrebbe difeso la sua onorabilità in tutte le sedi, aveva annunciato che avrebbe presentato querela per difamazione a mezzo stampa e aveva riferito anche di uno strano atteggiamento da parte dei suoi superiori che avevano in qualche modo tentato di convincerlo dell'opportunità di lasciare il servizio e che lui non l'avrebbe assolutamente fatto prima che non fosse stata accertata la verità. Le disse letteralmente di avere la sensazione di essere stato scaricato dall'amministrazione? Sì, penso che questo fosse il senso del suo discorso. Sì, in riferimento a questo che possiamo chiamare affare Tognoli, lei ha avuto in prosieguo altre notizie da altre persone? In prosieguo rispetto a cosa? Rispetto a questa notizia appresa dal dottore Contrada. No, dunque, dell'affare Tognoli io conosco poi che cosa si... conosco di un episodio avvenuto proprio nell'ufficio dell'alto commissario. Sì. Eravamo presenti io, il collega Misiani, l'alto commissario Siga e Giovanni Falcone. Sì, può rifiutare i contenuti? Sì, certo. Giovanni Falcone era reduce da un interrogatorio di Oliviero Tognoli a Lugano, penso comunque, in Svizzera e aveva riferito in quella circostanza di essere pressoché certo che la persona indicata nel corso dell'interrogatorio da Tognoli come la talpa, cioè come quella che aveva riferito del provvedimento restrittivo della libertà personale messa nei suoi confronti, così consentendogli di fuggire, dovesse identificarsi in Contrada. Ci fu un discorso abbastanza serrato. Io chiesi espressamente a Falcone se era stato fatto il nome di Contrada. Falcone lo escluse e aggiunse però che era stato costruito un identikit nel quale aveva avuto modo di riconoscere perfettamente il dottor Contrada. Disse infatti che Tognoli gli aveva parlato di un suo conoscente che era stato poliziotto e che non lo era più. Io chiesi poi a Falcone se avesse posto specificamente la domanda ma si tratta di Contrada e Falcone rispose certo che ho posto la domanda, chiesi poi se Tognoli avesse risposto che si trattava di Contrada e Falcone disse no, mi ha risposto con uno sorriso e mi sono permesso di chiedere a Falcone ma come hai interpretato questo sorriso e lui disse mi stupisco che proprio tu che sei siciliano come me mi ponga questa domanda. Sì, le circostanze riferite in quell'occasione al dottore Falcone avevano riferimento soltanto a ciò che accadde nel corso dell'interrogatorio svolto in Svizzera o anche ad altri fatti accaduti in Contoglioli fuori interrogatorio? Assolutamente, questa è la cronaca della conversazione, non mi sono state riferite né io ho chiesto altre circostanze. Sì, quindi ciò che ha riferito il dottore Falcone aveva riferimento all'interrogatorio in sede di rogatoria che ovviamente ebbe una verbalizzazione. Non parliamo neppure di verbalizzazione, parliamo proprio del contenuto e di queste circostanze e di queste circostanze soltanto. Ho capito, quindi ripeto è superfluo dopo la sua risposta, comunque dico il dottore Falcone non fece alcun riferimento a scambio di battute con Tognoli fuori interrogatorio o all'interno dell'interrogatorio. Con me escludo che questo sia avvenuto. Lei conferma di aver avuto con Contrada soltanto un incontro? Sì, ho avuto soltanto un incontro e ricordo che in quella sede il dottor Contrada fece anche riferimento a degli atti processuali, più che agli atti processuali preciso, alla querela che aveva in animo di presentare o una memoria aggiuntiva alla querela, non sono in condizione di ricordare esattamente la circostanza. Mi pare che quella sede disse che sarebbe ritornato per far vedere questo atto, io non l'ho più visto. Non so però se qualcun altro dell'ufficio e nella specie il collega Misiani abbia avuto contenza di questo atto. Sì, con Falcone parlaste solo in quella circostanza dell'affare Tognoli, diciamo, Tognoli, Contrada o non avendo avuto altre occasioni? No, non ho avuto nessun'altra occasione. Non siete mai più tornati sull'argomento? Non siamo più tornati sull'argomento. Sì. Devo aggiungere peraltro che sull'argomento si tornò parecchie volte perché per esempio appresi nell'ambiente dell'ufficio dell'altro commissario che era stata aperta non dall'ufficio ma che era in corso un approfondimento investigativo all'esito del quale era emerso che l'identikit poteva tagliarsi, l'identikit di Tognoli poteva tagliarsi perfettamente ad altro ex poliziotto. Sì, ecco, mi scusi, questo identikit che costitiva quindi la base di un'indagine se non ho capito male ricorda come era venuto fuori questo identikit? Era stata una descrizione fatta da Tognoli? Io riferisco solo ed esclusivamente, posso riferire solo ed esclusivamente quello che a me ebbe a dire Giovanni Falcone, ossia che era certo di aver identificato, perché usò proprio il termine identikit, era certo di aver identificato nell'identikit presentatogli in sede di interrogatorio da Tognoli il Contrada. Ho capito. Poi quali fossero le circostanze del prima e del dopo l'andamento dell'interrogatorio non fu oggetto di conversazione almeno con me. Sì, non ho ben capito se il suo ufficio disposa indagini sul punto. Che io sappia no, so che nel corso di, almeno, poi evidentemente io posso rispondere per la parte che conosco, io non ho avuto mai contezza di linee investigative o di approfondimento informativo disposto dall'ufficio dell'alto commissario. So per certo che successivamente a questa circostanza, parlandone, o meglio parlandomene, il dottor sicuramente Tonino, ecco faccio sempre confusione, Tonino De Luca mi disse che, anzi addirittura diede qualche particolare in più, mi disse che quegli identikit si attagliava o poteva tagliarsi perfettamente ad un ex poliziotto che era stato in servizio a Palermo, che aveva frequentato con Tognoli, che aveva frequentato con Tognoli la scuola media superiore, mi pare a Cefalù, che aveva prestato servizio in Veneto, che aveva frequentato casa Tognoli, che non era più nella polizia perché aveva vinto il concorso da referendario al Tar e da ultimo mi pare che avesse aggiunto, ma non in quella circostanza, da ultimo mi pare aver appreso anche la circostanza che lavorerebbe in atto con Tognoli come responsabile del marketing internazionale. Non le disse che tutti questi elementi, sia le identikitiche, tutte le caratteristiche, tutti i riferimenti a questo compagno di Tognoli, ne aveva fatti lo stesso Tognoli che non erano frutto di un'investigazione ma erano le stesse dichiarazioni di Tognoli? No, io ho sempre saputo, anche perché non ho mai avuto accesso ad atti, non ho letto mai di atti di quella vicenda o di questa vicenda, ho sempre saputo che era il risultato di un'indagine. Ho capito, non l'è stato quindi mai detto che erano queste le dichiarazioni di Tognoli? No, assolutamente, lo prendo adesso per la prima volta. Sì, successivamente a questo unico incontro che lei ha avuto con il dottore Contrada, ricorda che qualcuno le ha chiesto di esaminare una memoria difensiva del dottore Contrada? Sì, mi riferivo, rispondendo alla precedente domanda, mi riferivo giusto a questo, più che una te, si tratta forse esattamente una memoria difensiva, mi fu annunciato che probabilmente il dottore Contrada avrebbe portato una memoria difensiva, io non ricordo di aver mai letto questa memoria difensiva, ho ragione di ritenere che l'abbia letta il collega Misiani, penso. Sì, ma di questa eventualità, quindi di chiedere a lei l'esame di questa memoria, ne parlaste nell'unico colloquio che avete avuto, ovvero fu un'iniziativa del dottore Contrada a sua insaputa? A sua insaputa, ricorda. O avevate concordato, guarda il dottor Di Maggio, le farò avere una memoria? No, nel corso del primo e unico incontro, che era un incontro anche particolarmente teso per la posizione del dottore Contrada, che era veramente provato da questa vicenda, fu anticipato che sicuramente avrebbe fatto avere l'ufficio dell'alto commissario a noi, quindi a me, a Misiani e agli altri collaboratori, una memoria difensiva, adesso non ricordo, se la memoria difensiva o addirittura l'atto di querela, per un esame, anche perché preannunciava che avrebbe dettagliato tutta quanta la posizione, poi io però quell'atto non ne ricordo di averlo mai visto. Ok, vabbè, però la può passare. Prego la difesa. Una domanda, questa. Senta, in quell'incontro che avete avuto con Falcone, in questo incontro era pure presente il collega Misiani, lei ricorda se Misiani contestò a Falcone il contenuto del verbale dell'interrogatorio che ho reso da Tognoli. No, non ricordo questa circostanza, signor Presidente, devo aggiungere tuttavia che gli incontri erano particolarmente serrati, nel senso che ogni volta che ci vedevamo trattavamo più argomenti. in un ufficio dove il telefono squillava continuamente, per cui c'erano anche episodi di incontro tra me e Falcone, è possibilissimo che abbiano parlato tra di loro, non lo escludo, non sicuramente in mia presenza. Comunque, la circostanza, non ho mai saputo che qualcuno avesse letto i verbasi. Questo è quello che mi riguarda. Questo primo e questo incontro con Falcone, lei lo sa collocare nel tempo, quando è avvenuto? Dopo il ritorno alla Svizzera di Falcone, immediatamente dopo? Sicuramente dopo il ritorno perché si faceva riferimento ad un altro assunto in Svizzera. Quanto tempo dopo? Non so poi se posso... Come veda, gli atti assunti in Svizzera sono due, uno a febbraio e uno a giugno, a maggio. Non sono assolutamente in condizione di precisarlo. Se fra il primo o il secondo, oppure dopo il secondo? Tenuto conto, ma qui evidentemente esprimo una mia opinione personale, per quanto possa valere, tenuto conto però della pochezza del contenuto di questa conversazione, sarei indotto a pensare che dopo il primo? Ci vedo un po' febbraio, insomma. Lei ha parlato ripetutamente, come riferito da Falcone, di un identikit. È vero, si avrebbe genericamente. Ora, lei ha capito che questo identikit, gli elementi erano stati verbalizzati? Oppure no? E quali erano? E quali erano questi elementi, se lei lo ricorda? Non potevo... Cioè, debbo confessarle che davo assolutamente per scontato che fossero state verbalizzate, fossero stati tratti da un atto, insomma. Cioè, riteneva appunto lei... Sicuramente, poi non era evidentemente una circostanza che avesse rilievo nel rapporto fiduciario con l'interlocutore, insomma, con Falcone. Questi elementi, quindi, quando si parla proprio di identikit, è proprio come riassunto di elementi che consentivano l'identificazione, insomma. Lui la dava assolutamente per certo, ma il riferimento specifico fu al rapporto di amicizia e soprattutto alla perdita della qualità di poliziotto. Senta, io ritorno a quella prima domanda. Siccome Misiani ha detto che lui ha avuto un incontro con Falcone, di cui ebbe quella notizia, che sappiamo, Poi Misiani si procurò il verbale dell'interrogatorio di Tognoli e lesse queste dichiarazioni di Tognoli quasi contestandole a Falcone. E vide che non corrispondevano alla contrada. E Misiani ha detto che lei era presente a questo. Lo escludo assolutamente perché io non ho mai visto i verbali. Le posso aggiungere che ho appreso della circostanza leggendo ieri il giornale, sapendo che si erano procurati attraverso Chiodi, secondo quanto riferito dal giornale. Io non ho mai visto quel verbale e non ho mai trattato con Misiani della vicenda al di fuori dell'unica occasione in cui eravamo simultaneamente presenti nell'ufficio di Sica, io, Sica, Falcone e Misiani. Insomma, quando Misiani disse a Falcone che il contenuto del verbale ed interrogatorio era diverso da quello che aveva detto Falcone a lui, lei non era presente. Lo escludo nella maniera più categorica. Poi. Poi. Quando, insomma, ritorniamo su una domanda fatta dai principi ministeri per maggiore chiarezza. Quando lei chiese a Falcone se aveva chiesto espressamente a Tognoli se era stato contrada ad avvisarlo, Falcone si limitò a fare questo, a dire c'è stato un sorriso che io... Mi disse, certo che gliel'ho chiesto. Mi ha risposto con uno sorriso e allora io aggiunsi, ma come era da interpretare, insomma, questo sorriso? Come l'ha interpretato? E lui mi rispose, mi stupisce che tu che sei siciliano come me mi ha fatto la domanda. Come dire, era sicuramente uno sorriso di assenso. Non aveva risposto sì. No, non sarebbe stato ragione. Non hanno aggiunto che il sorriso fu accompagnato da un sì. Siccome a noi risulta da altre fonti, chi avrebbe detto sì? Presidente, ho l'obbligo di dirle la verità. Certo. Va bene. Senta, poco fa lei ha usato questo termine a proposito di Falcone. Dice, Falcone era pressoché certo, disse che era pressoché certo, che la tappa era contraria. Si dice, perché usa questo termine pressoché? No, ma insomma, è un termine discorsivo. Nella mia percezione e dal contesto del discorso emergeva chiaramente la sua certezza. Buono. Questo è assolutamente pacifico. Va bene. Per noi non ci sono altre domande. Se la parte, portando su quest'ultimo punto affrontato dal Tribunale, e purtroppo mi dispiace, torniamo sempre a una circostanza che è già costituito oggetto di esame. Il momento, circa il momento in cui Falcone pose la domanda, cioè quando avete parlato, dice, è ovvio che gliel'ho posto la domanda. Quando io le ho chiesto poc'anzi, tutte le circostanze riferite da Falcone, cioè ciò che aveva preso Falcone, aveva unico riferimento alla sede dell'arrogatoria internazionale, ovvero Falcone le fece mai qualche riferimento a qualcosa che sarebbe accaduto fuori verbale. Non ha fatto la domanda. Non è stata posta la domanda, Presidente. Si oppone. Non fece riferimento. No, si oppone alla domanda. Va bene, la ripetiamo, la ripetiamo. Prego. La ripetiamo, l'ha detto. Vorrei fosse chiaro questo per il caso che non abbia espresso bene. Ecco, vorrei, l'oggetto, non stavamo assolutamente indagando sull'atto processuale compiuto, né sulle circostanze in cui erano state assunte. Quello che interessava, quello che a me è stato riferito, è stato proprio il nucleo centrale del rapporto istruttorio. Se fosse stato oggetto di più interrogatori, meno interrogatori in Svizzera o altrove all'interno del Partito di Justizia, non è stato oggetto di discussione. A me personalmente poi non interessava. Si parlò solo ed esclusivamente del fatto della possibilità di identificare. Quindi non le disse, non disse il dottor Falcone se la domanda è stata o non è stata contrata, sia stata posta in uno o in un altro momento? No. Poco fa però lei aveva detto nel corso dell'interrogatorio. Sì, no, beh, è chiaro, nel corso, beh, insomma, questo mi pare assolutamente pacifico. No, non è pacifico, non è pacifico. No, primo o secondo momento, questo non sono in condizione di dirlo perché non conoscevo neppure la circostanza che fossero stati assunti due interrogatori. Che si trattasse però di una relazione istruttoria formale e veniva dato tra noi assolutamente per pacifico, anche perché mi ricordo che in quella circostanza si disse che era stato aperto un procedimento, potrei sbagliarmi, ma conservo sicuramente memoria di questo particolare, ex articolo 348 bis sul presupposto che il Tognoli era imputato in posizione stralciata al dibattimento davanti al Tribunale di Roma. Quindi, mi scusi, sia il riferimento all'identikit che il riferimento alla domanda contrata, dico, nel racconto del dottore Falcone, aveva un unico contesto temporale? Sì, sicuramente, per quanto ne ho percepito io sì. Sì, va bene. Può andare il dottore De Manzi, grazie. E non avevo la gara? Non so, le teste sono le gara, è giusto. Anche se tu è indagato di camorra. Maresciallo, accompagni il test, vedo, perché siccome è un po' pericoloso qua, ci sono fili, si accomodi prima qua, prima qua, prima qua, prima qua. Senta lei, consente di essere ripreso alla telecamera, non ha problemi. e lega questa dichiarazione. Posso la riprendere? Un sapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si affomode. E allora, onorevole, dia le generalità. Caro Antonio, nato a Castellamare di Stabia il 30 luglio 1930, domiciliato a Roma in via Indonesia 23 euro. Va bene. Pubblico Ministero può procedere all'esame. Senta. Lei, in che periodi ha coperto la carica di inizio all'interno? Dall'aprile 88. Senta, onorevole, qua. Lei senta la domanda e poi quando risponda si rivolga al Tribunale. Le chiedo scusa. Dunque, credo dall'aprile 1988 all'ottobre 90. Ottobre 90. Quindi lei nell'agosto 89 era Ministro dell'Interno, esatto? Sì. Senta, lei ricorda proprio nell'agosto 89 di una sua audizione presso il Comitato Parlamentare per i Servizi Segreti. Sì, ricordo. Ricorda in particolare se nel corso di quell'audizione le venne chiesto e lei riferì qualcosa in ordine al dottore Consul, dottore Contrara. Al dottore? Contrara. Ma molto, che io sappia molto relativamente, questa fu in data... Agosto 89. Agosto 89. Non ricordo di aver avuto specifiche domande. Non ricorda. Domande. Non ricordo. Non ho capito, non ricorda. Non ricordo di aver avuto, diciamo, specifiche domande. Però, credo, signor Presidente, di avere probabilmente parlato anche di questo. Non è che ricordi tutto con esattezza. Perché io non ho riletto la documentazione. Quando un Ministro dell'Interno si allontana, non è che si porta via con sé documentazioni o carte. Io sono stato interrogato in sede, diciamo, istruttoria. Credo di aver detto qualcosa. E ciò che ho riferito è certamente ciò a cui mi riporto anche... Veda, noi non abbiamo queste sue dichiarazioni. Il Tribunale, in base alla nuova procedura, non conosce queste sue dichiarazioni. Questa è la situazione. Ah, va bene. Ci chiedo... Capito. Lei ricorda se, nel corso di quell'audizione, lei ebbe modo di esprimere dubbi sul dottore Contrario? No, io non ho espresso dubbi perché non ero in grado di esprimerli. Nel senso che io ero stato informato naturalmente in quel periodo di alcune questioni, ma certamente non avevo nulla, diciamo, di particolare. Anche se si era discusso, eventualmente, se vi erano provvedimenti, siccome la questione era divenuta molto dibattuta, se vi erano provvedimenti da assumere. Però queste questioni normalmente le seguono i dirigenti, non le segue il Ministro. La mia domanda non nasce così a casco, nasce da un passo, di cui io le do lettura, della relazione del Comitato Parlamentare per i Servizi di Informazione e Sicurezza del Segreto di Stato, comunicata alla Presidenza delle due Camere, il 3 costo del 1993. In un passo, in questa relazione... Signor Presidente, la difesa si oppone a cosa? Non ho ancora formulato la domanda. La domanda, si parla di una relazione del 1993. Il problema si pone in questi termini. Cioè a dire, noi dobbiamo, per capire cosa ha detto, non ho regolato la termina, non si può fare nulla. La sua sposa emerge da una relazione del 1993. Ma la relazione fa riferimento a quella audizione. Se mi dà il tempo di concludere... Non faccia concludere la domanda. Non faccia concludere la domanda, è che ne abbiamo pure noi questa parte. Lo so, lo so. Lo so, questa è l'interrelazione. No, non faccia concludere la domanda. Non faccia concludere la domanda. E allora, dicevo, dalla relazione esattamente a pagina 9 si legge, si devono esprimere pesanti riserve sulla circostanza che al dottor Contrada, nonostante, questo è il passo che riguarda la sua audizione, per questo io faccio riferimento a questo passo, nonostante i dubbi che pure affiorarono anche all'interno del Comitato nella passata legislatura e particolarmente in occasione dell'audizione del Ministro Pro Tempore nell'agosto del 1989, poi dice che sulla circostanza siano stati affidati i compiti particolari delle delicatezze, eccetera, eccetera. Quello che interessa è questo inciso, dove si dice che affiorarono dei dubbi anche all'interno del Comitato nella passata legislatura e particolarmente in occasione dell'audizione del Ministro Pro Tempore nell'agosto del 1989. Lei è il Ministro Pro Tempore nell'agosto del 1989, quindi la mia domanda è se anche in relazione a questa evidenziazione fatta dal Comitato parlamentare del 1993 su quella audizione, se lei ha riconto quali erano questi dubbi emersi nel corso della sua audizione. Ma io nel corso della mia audizione ebbi a dire soltanto a fare un'osservazione, non a parlare specificamente, di problemi che specificamente non conoscevo, ma soltanto a sostenere, a dire che mi era sembrato sottolineare la opportunità che rispetto ad un lungo periodo di servizio non si permanesse, cioè una indicazione anche per l'avvenire, non si permanesse con permanenza per lunghi anni sempre nella stessa zona ad operare servizi di una delicatezza. Questa mi pare, io ricordo, fu un'osservazione che ebbe a fare nella discussione a proposito del dottore Contrani, in generale anche. Sì, però, ripeto, nella relazione si fa esplicito riferimento al dottore Contrani, nell'89 al dottore Contrani non prestava servizio a Palermo, non prestava servizio a Roma, quindi se lei ha fatto quell'osservazione, cioè se ho capito bene, in relazione alla sede di cui si esercitava l'attività, quindi sconsigliando che si permanesse in Sicilia per molto tempo, non poteva riguardare certo il dottore Contrani che era già a Roma. Quindi lei, se ho capito bene, non ha alcun ricordo di questi dubbi emersi nel corso di questa discussione? Se si tratta specificamente del dottore Contrani, io onestamente non ho manifestato dubbi. Io ho esclusivamente esposto ciò che mi era stato detto. Allora, ti ricorda almeno l'oggetto? Cioè, che cosa le fu chiesto? Riguardo al dottore Contrani che cosa si disse nel corso di quella posizione? Lei cosa disse e cosa le fu chiesto? A me non fu chiesto nulla di specifico, che io ricordo. D'altro canto credo che poi abbiate i documenti, documenti che io non ho. Non so se ne ho l'idea. Non il documento ne abbiamo, è questa in relazione. No, però non abbiamo l'interrogatorio perché c'è il vincolo della segretezza. C'è tanto vero, signor Presidente, che neanche a me che l'ho richiesto. Non sulle notizie contenuto dell'atto. E' tanto vero? No, sul verbale dell'audizione. Il verbale è un'altra domanda. Tanto è vero e non mi consenta che io, per poter rispondere, io naturalmente ho richiesto, rispetto ad alcuni anni fa, la documentazione che era possibile dargli da parte del Parlamento, quindi del Comitato sui servizi di sicurezza. E naturalmente non ho ricevuto questa parte, pur essendo stato... Infatti, comunque lui che cosa ricorda? Solo questo possiamo chiedere. E questo è quello che sto cercando di... Io ho detto che l'unica osservazione... Questo possiamo chiedersi. Che cosa ricorda? E basta. Io ricordo soltanto, ripeto, una discussione che si ebbe su questo piano e questa osservazione di cui ho parlato, ma che era indipendente. Era un'osservazione di carattere generale rispetto ad un indirizzo che secondo me bisognava... Cioè di non lasciare i funzionari per lunghissimo tempo in un determinato posto, data la delicatezza delle funzioni che loro esercitano. Senta, lei ricorda che proprio in quel periodo vi furono anche delle polemiche giornalistiche riguardanti un presunto coinvolgimento il dottore Contrada nella agevolazione della fuga di Oliviero Tognoli. La famosa induzione di Bresciano. Sì, io ricordo soprattutto rispetto a questa polemica di aver dato in carico e di riferirmi, di aver chiamato i capi responsabili e di riferirmi su questo argomento. Che io ricordi, allora fu detto che era stato un amico di scuola che aveva svolto questo... No, la mia domanda era per vedere se riuscivo così ad aiutarla nel ricordo in relazione a quella famosa audizione. Ricorda se per caso nel corso di quella sua audizione si parlò di questo argomento, dell'eventuale coinvolgimento del dottore Contrada in questa vicenda. Non credo. Non ricordo, ma non credo. Perché poi non voglio essere spettito... Non ricordo, ma non credo. No, ma lei deve consentirmi il ministro che viene interrogato e che risponde in sede parlamentare e che poi non ha la possibilità di riscontrare nulla e anche di come sostanzialmente è stato verbalizzato io rispondo così come la mia coscienza... No, no, non ricorda. Senta... E lei ricorda un'altra cosa. Ricorda se in quel periodo, con lo stesso periodo, nell'89 e già nell'88, quindi quando lei era già ministro dell'interno, che se si era posto il problema della permanenza del dottore Contrada all'interno del SISD o di una possibile restituzione d'ufficio del dottore Contrada alla sua amministrazione di appartenenza, cioè alla polizia? Beh, io credo di avere posto io il problema chiedendo di conoscere e di sapere per poter eventualmente assumere delle decisioni. Quindi me ne sono occupato, questo, nella mia responsabilità di ministro. Però devo dire che rispetto alle relazioni che ricevetti allora dal servizio, io ebbi assolutamente una risposta alla quale negava che ci fosse stato questo fatto e questo interessamento. Anzi, come stavo accennando, scusatemi, ne ho accennato perché questo è un argomento che ho letto sulla staffa di ieri, quindi, ma, questa non c'entra, perché qui non c'entra. Sostanzialmente fu detto che per questa ragione io chiesi, ma naturalmente, contrariamente a ciò che si afferma, non è che il ministro dovesse confermare, il ministro eventualmente doveva provvedere a fare rientrare in servizio, diciamo, ordinario della pubblica sicurezza, dell'amministrazione della pubblica sicurezza, una persona se fosse stata responsabile. A me, di questa responsabilità, questa responsabilità mi è stata esclusa da chi aveva la responsabilità del settore. Quindi, se ho capito bene, fu sua, allora, in qualche modo, l'iniziativa, cioè di interessarsi per valutare un'ipotesi di restituzione del dottore Contrata. Non furono altri suoi collaboratori, non sono il direttore del SIS, del capo della polizia, a porre la questione. Non mi... Io ho detto che io, leggendo sulla stampa tutta quella polemica... Parla di questo dell'89, esatto? Esattamente. Posi un problema di accertamento dei fatti, come era mio dovere immediatamente. Ho avuto una risposta... Sì, e questo è chiaro. La mia domanda, scusi, allora forse non sono stato molto chiaro nella mia domanda. No, ma se che io non abbia... Se si era posto un problema di permanenza del dottore Contrata al SIS, questo mi interessava, non tanto l'esito, cioè gli accertamenti disposti e l'esito di questi accertamenti. Si pose un problema, chi lo pose e quale fu l'esito. Lei è andato direttamente all'esito. Mi interessava sapere chi pose il problema dell'opportunità di una permanenza del dottore Contrata al SIS, per quello che non so ricordo, naturalmente. Venne dal direttore del SIS, perché doveva essere posto un problema di permanenza al SIS del dottore Contrata se nessuno ne aveva proposto la esclusione? Per la verità emerge da altre testimonianze che il problema si pose. E poi, lei ricorda, per esempio... Si pose una... Scusi, lei... Così cerco di... Allora, chiedo scusa, chiedo scusa. Lei ricorda se, per esempio, vi fu una riunione presieduta da lei, in cui partecipò il direttore del SIS, il prefetto Lattarulo, in cui si discusse proprio se il dottore Contrata fosse opportuno e rimanesse al SIS o venisse presiduito all'amministrazione di polizia? Beh, io non ricordo una riunione di questo genere. Comunque è un ritorno... Non ricordo con esattezza una riunione del genere, ma io avevo dato incarico e naturalmente l'incarico che io davo lo davo ai responsabili del settore, cioè al capo della polizia e al capo del SISD e poi lo davo perché mi seguisse le vicende a quello che era il mio capo di gabinetto Lattarulo. Quindi lei, comunque sostanzialmente, da quello che ho inteso, diceva che, visto che dall'esito degli accertamenti non sarebbe risultato nulla di concreto, non si poneva neppure il problema di un eventuale trasferimento d'ufficio, perché il trasferimento... A me non è stato posto. Sì, no, se lo cercate di capire, riassume un po'. Se, quindi, il discorso è che si sarebbe proposto una restituzione d'ufficio solo qualora fossero emersi degli elementi concreti sul dottore Contrata. È questo che lei voleva dire? Dice... No, io non dicevo questo. Allora, prego. Non dicevo questo. Io dicevo quello che ho detto io. Cioè che io ho iniziato a svolgere un'azione e quindi ho chiesto ai responsabili del settore di svolgere degli accertamenti. Quando questi accertamenti sarebbero stati svolti in un senso o in un altro mi avrebbero riferito. Esatto. E non è che io avessi deciso di far permanere. Io non ho adottato provvedimenti perché non mi sono stati proposti provvedimenti. Il che è una cosa completamente diversa dalla eventualità di avere io detto no non si deve fare o io sì si deve fare nonostante le indicazioni che mi fossero venute di altra natura. Questa è la funzione del Ministro. Ma a lei risulta che era stato mai prospettato se le ricorda o se comunque le risulta era stato mai prospettato al dottore Contrada l'opportunità che lui stesso avanzasse domanda di restituzione al corpo di polizia e che il dottore Contrada invece si era rifiutato. Io credo di sì. Lei crede di sì? Cioè che si è stato prospettato all'eventualità di rientro Quindi lei ne ha ricordo di questo? Di questo ne ho ricordo. E chi gliene parlò? Ricorda? Certamente il capo della polizia credo. Quindi dico il problema della permanenza del dottore Contrada dal sinistra già era stato posto prima ancora che arrivasse sul tavolo del ministro se è inteso bene. Beh ma che loro studino prima di arrivare sul tavolo del ministro mi pare che sia Non c'è nessuna sorpresa per chiarire mettere dei punti fermi. Siccome sto ricordando un po' come si faceva il ministro. E allora dico quindi lei ricorda che era stata prospettata questa questa opportunità che lui che il dottore Contrada rientrasse nella polizia di Stato ma questa opportunità da che cosa nasceva? Per quello che le fu detto. L'opportunità è una cosa molto relativa cioè rispetto ad una polemica che c'è sul problema ci può essere un'opportunità nel senso di suggerire tagliamo la testa al toro e evitiamo questo. E allora però tutto questo secondo quello che mi venne riferito richiedeva l'assenso perché naturalmente non era un fatto punitivo ma era un fatto eventualmente di l'assenso dell'interessato diciamo non essendoci stato l'assenso insomma io ritengo di non avere cioè io non ho dovuto adottare alcun provvedimento perché mi è stato proposto esattamente la mia domanda cerca di ricostruire dico i vari passaggi per capire fu avanzata una richiesta di presentazione volontaria di restituzione d'ufficio al dottore Contrada il dottore Contrada non diede l'assenso si rifiutò a questo punto l'amministrazione se ho capito bene decide di fare degli accertamenti per verificare la fondatezza o l'infondatezza delle notizie di stampa è così o no? già priva vi era tutta una polemica per la quale fu detto da parte del ministro di fare degli accertamenti e quindi la decisione ultima viene presa in relazione all'esito degli accertamenti o continuo a non capire no non fu presa nessuna decisione perché permanente al suo posto non fu presa nessuna decisione in quanto era una decisione negativa in riferimento all'esito degli accertamenti esattamente scusi se vi fu una riunione quella riunione un esito l'avrà avuto negativo o positivo quindi una decisione venne presa una decisione di non fare ma sempre una decisione no 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 ebbene sono piccole cose che hanno la loro la loro importanza la loro la loro importanza io io non so niente sono arrivato in questo momento qui la loro la loro importanza io io non so niente sono arrivato in questo momento qui direttamente e non so assolutamente niente franne quello che ho letto ieri un po' sui giornali ma non mi interessa perché so che questo non deve far parte della mia proposta e del mio interrogato però io voglio dire che quando si vuole affermare che il ministro ha preso la decisione di non fare se si dice questo si dice una cosa indesante no no abbiamo chiarito abbiamo il delle testimonianze di testimoni in particolare di alcuni testi in particolare del dottore di Pasquale capo del personal del prefetto Malpica i quali hanno riferito per il fatto che ebbe un ruolo decisivo con la riunione in particolare quello che era l'orientamento del ministro l'orientamento del ministro era che visto che non erano emersi elementi a carico del dottore Contrato non era il caso di procedere alla restituzione d'ufficio siccome ha detto poc'anzi il testimone che non è vero che il ministro decise di non procedere alla restituzione d'ufficio ma mi consenti io dovevo decidere se avevo sulle parole dovevo decidere questo l'abbiamo capito tutti avrei quindi decidere il ministro di non procedere signor Presidente chiedo scusa avrei dovuto decidere se gli accertamenti fossero stati tali da portare allo spostamento nonostante il dottor Contrada avesse rifiutato di farlo spontaneamente chiarissimo senta o quasi senta e lei manifesto per quello che lei ricordo prima di apprendere l'esito di questi accertamenti e prima quindi di questa riunione lei aveva manifestato anche anche lei l'opinione che era opportuno che il dottore Contrada presentasse lui spontaneamente domanda di restituzione all'amministrazione appartenente come qualcuno dei suoi collaboratori può darsi che ho parlato qualcuno mi ha detto questo io ho detto procedete agli accertamenti vedete no la domanda era diversa se lei aveva concordato con la richiesta al dottore Contrada di presentare lui stesso domanda di restituzione all'amministrazione appartenente lei era informato di questa iniziativa prima che gli venisse comunicata il dottore Contrada certamente era informato ed era assentiva con questa iniziativa ma ma perché quando non è informato assente o non assente io sono il ministro sono informato di un fatto va bene ho detto procedete d'accordo senta lei ricorda se in precedenza nell'anno passato si era nuovamente posto il problema cioè quindi in precedenza non nell'89 se nell'88 già si era posto la questione della permanenza del dottore Contrada dal SISDE in relazione ad altre polemiche di stampa no non ricordo ma comunque per un ricordo che io so rispetto a queste informazioni il comandare il capo del SISDE che aveva la responsabilità di tutto ciò mi ha sempre smentito ogni insinuazione che era stata fatta lei sa se il direttore del SISDE dell'epoca quindi siamo nell'88 cioè il prefetto Malpica aveva formalizzato aveva formalizzato la sua intenzione di non rinnovare l'incarico triennale del dottore Contrada alla scadenza del triennio cioè nell'agosto 88 no non ho capito mi chiedo cioè il dottore Contrada si trovava al SISDE con un incarico triennale che andava rinnovato di triennio in triennio questo incarico scadeva nell'agosto 88 risulta che nel non ricordo se non ricordo male marzo 88 il prefetto Malpica con una nota indirizzata al CESIS ora non ricordo se è mandato per conoscenza anche il ministro dell'interno ma io non ero a marzo credo che a marzo non ero aprile era lui si lui è diventato ministro d'asile io racconto il fatto nel marzo 88 che mi ha rimesso l'intenzione di non rinnovare l'incarico nel giugno 88 e lei a quel punto il prefetto Malpica il direttore va bene non rinnovare l'incarico alla scadenza al triennio che sarebbe venuto all'agosto 88 nel giugno 88 e quindi nel giugno 88 lei nel frattempo è divenuto ministro dell'interno il prefetto Malpica a rettifica della precedente richiesta fa presente che intende invece chiedere il rinnovo di spogli il rinnovo dell'incarico triennale lei ha conoscenza di questo mutamento del rientamento dal direttore del sistema no non è mai stato informato no non ne ha mai parlato al prefetto Malpica no né altri collaboratori le dissero alcunché sul punto altri suoi collaboratori del capo della polizia capo del gabinetto dico non è santo dell'ipotesi di mandarlo via e poi del cambiamento effettuato del che io sono conoscenza soltanto della richiesta di riconferma nonna 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 di quella precedente che non era venuta a me e che io non ho conoscenza la mia domanda è se lei lo sa non lo so no senta quindi lei lei per quella che è la sua esperienza di ministro dell'interno lei ha conoscenza o ha ricordo di casi altri casi in cui venga prima ha prima disposto il non rinnovo dell'incarico di rinunale e poi successivamente rinnovato l'incarico cioè questo provvedimento di tipo negativo seguito da un provvedimento poi positivo nell'arco dei tre mesi non mi risulta credo che non mi risulta almeno sia nel periodo in cui sono stato un motivo di riterire che non si siano verificati i bisogni del genere un motivo di riterire attenzione di voi senta quindi evidentemente lei non essendo a conoscenza di del primo provvedimento se ho capito bene neppure del secondo cioè quello del rinnovo lei non è immagino comunque io la domanda gliela rivolgo lei è o meno a conoscenza le ragioni che indussero a rinnovare l'incarico nonostante una precedente valutazione diversa no assolutamente perché a me non è apparso nulla di strano non conoscendo senta lei mai conoscendo il dottore contrada personalmente ecco io mi attendivo questa domanda e sto osservando il dottore contrada da parecchio tempo e lo sto vedendo anche durante io devo dire la verità io penso di essere stato in sicilia non so se stava in sicilia di essere stato altrove ma io praticamente incontri particolari non ricordo di averne avuto nel ricordo di avere personalmente poi può darsi che sia stato perché attenzione insomma quando si parla di un ministro il quale gira per tutti i comitati per tutte le cose di sicurezza fa riunioni con magistrati con insieme con magistrati benissimo un funzionario può averlo visto ma non aver avuto occasione di scambio di opinione senta lei oggi è stato è sentito come testimone perché non si ravvisa connessione tra questo procedimento e i procedimenti nei quali lei è indagato lei è indagato procedimenti penali presso la procura di Napoli presso la procura di Napoli sì per quali i veati per i veati per i veati di 416 bis ovviamente se l'ho concluso va bene